Buongiorno a tutti, sono Rosa Toglio, insegnante di Engine Beneco Scaligia da Formazione nella sede di Chievo-Brona. Abbiamo con noi oggi un ospite molto importante, molto gradito. Glaciologo, climatologo, divulgatore scientifico, accademico, Luca Mercalli non ha bisogno di presentazioni particolari, è un volto noto al pubblico televisivo italiano ed è un nome conosciuto per il suo impegno che dura da decenni. Ha scritto moltissimi libri di successo sul clima e non solo, che sono diventati punti di riferimento per altri studiosi e per tutti coloro che sostengono una lotta quotidiana contro i cambiamenti climatici e le loro conseguenze. Professore, io direi di partire dalla mostra By Glaciers, che ospiteremo per un mese nella nostra scuola, che evidenzia lo stato di riduzione dei ghiacciai sulle Alpi orientali. Le chiedo qual è la situazione in tutto l'arco alpino e perché dovremmo seriamente preoccuparci di quanto sta avvenendo. Bene, buongiorno a tutti, sono contento di aprire questa mostra sui ghiacciai perché vedete i ghiacciai sono un modo facile anche per i nostri studenti per capire che cosa sta succedendo al clima. Sono in sostanza dei termometri naturali. Il ghiacciaio avanza se fa freddo e nevica molto e regredisce se fa caldo e nevica poco o sta fermo se il clima è costante. I nostri ghiacciai sono venuti avanti ancora fino alla fine dell'Ottocento. Una delle ultime grandi avanzate glaciali avviene attorno al 1880. Poi ci sarà ancora un momentino di avanzata negli anni venti del Novecento e poi inizia una ritirata. Si fermano e rimangono più o meno in posizioni costanti fino agli anni 80-90 del Novecento e poi proprio verso l'inizio degli anni 90, quindi 91-89-90 insomma in questi anni cominciano a regredire. Fino lì poteva tutto sembrare una pulsazione naturale, ma l'arretramento degli anni 90 è poi proseguito in modo sempre più drastico negli anni 2000 e sta portando i nostri ghiacciai alpini all'estinzione. Io ho iniziato a osservare i ghiacciai del settore alpino del Gran Paradiso nel 1986 e li ho ancora visti in forma. Nel 1986 mi muovevo, avevo vent'anni e iniziavo la mia carriera scientifica proprio di ricerca su questi ghiacciai, mi muovevo su dei campi di neve che resistevano per gran parte dell'estate e su ghiacciai che se anche non erano più in avanzata erano comunque dei ghiacciai di dimensioni ragguardevoli, con crepacci, con tutta la morfologia tipica del glacialismo alpino. A partire dagli primi anni 90 ho iniziato a vederli arretrare. Tra l'altro nel 1991, legato all'arretramento dei ghiacciai, c'è un fatto eccezionale, tanto per l'archeologia quanto per la climatologia, ed è la scoperta della mummia Ötzi sul ghiacciato del Similaun, sopra Merano, al confine con l'Austria, a 3200 metri. Questa scoperta è importantissima perché ci fa capire che la mummia, datata poi a 5300 anni dal presente, si è conservata perfettamente fino a noi semplicemente perché non è mai uscita dal ghiacciaio. Ecco una prova nuovamente importante della novità di questa fase di arretramento. Se i ghiacciai nel Medioevo, in epoca romana, fossero arretrati tanto quanto oggi, la mummia Ötzi sarebbe già uscita più volte e si sarebbe deteriorata. Invece è stata rinvenuta perfettamente integra ed è al Museo archeologico di Bolzano, che tra l'altro è una tappa perfetta per una bella visita con gli studenti, una visita, una di quelle gite scolastiche che serve veramente a qualcosa. Torniamo ai nostri ghiacciai che quindi, proprio nell'estate molto calda del 1991, dichiarano ormai definitivamente una ritirata che non si è più fermata e negli anni 2000 è proseguita. Allora attualmente la situazione è che i ghiacciai alpini hanno perso il 60% della loro superficie rispetto a un secolo fa. La maggior parte di questa perdita è avvenuta negli ultimi vent'anni, quindi negli anni 2000, in particolare annate caldissime come l'estate 2003, l'estate 2015, 2017, 2019, sono in grado di consumare tra i due e i tre metri di ghiaccio in una sola stagione. Mediamente i nostri ghiacciai perdono un metro e mezzo di ghiaccio all'anno in questo periodo storico. Siccome non sono ghiacciai tanto spessi, se togliamo proprio la manciata di ghiacciai più estesi delle Alpi, come il Grosser Alex Gletscher nell'Oberland Bernese o alcuni ghiacciai del Monte Bianco, la maggioranza dei nostri ghiacciai sono spessi poche decine di metri, quindi il conto è presto fatto. Nel giro di qualche decennio, diciamo entro il 2050, avremo perduto quasi tutti i ghiacciai sotto i 4.000 metri e rimarrà qualche cappuccio di ghiaccio sulla vetta del Monte Rosa, del Bernina, del Monte Bianco, ma stiamo parlando di ghiacciai residuali. Questo perché la temperatura continua ad aumentare. I nostri ghiacciai quindi sono già fuori equilibrio adesso e con l'aumento della temperatura futuro, tanto o poco che sia, sono ormai condannati all'estinzione. Quindi guardatevi lì oggi che ancora ci sono, la mostra è perfetta nel farvi vedere che non stiamo parlando di teorie, ma purtroppo di fatti. E le fotografie di un secolo fa e quelle fatte con grandissima attenzione negli stessi punti in anni recenti ci mostrano purtroppo l'entità di questa riduzione che è il termometro naturale del riscaldamento globale che sta avvenendo in tutto il mondo. I ghiacciai stanno arretrando anche in Himalaya, anche nelle Ande, anche nelle montagne rocciose, in Alaska e ahimè anche in Groenlandia. Ed è la riduzione dei ghiacciai che tra l'altro fa anche aumentare il livello dei mari. Bene, professore, bene, direi molto male. Comunque, lei dice, professore, che la fusione dei ghiacciai purtroppo è ormai una realtà di cui bisogna prendere atto. E io le direi che non è che uno dei sintomi evidenti del cambiamento climatico, insieme ad altri fenomeni estremi, estati calvissime, alluvioni, siccità, incendi, bombe d'acqua, medicines. Che cosa sta realmente succedendo a livello globale nel mondo, professore? Dalla rivoluzione industriale abbiamo cominciato a bruciare carbone, poi petrolio e poi gas per alimentare le nostre attività industriali ed economiche. I combustibili fossili emettono, quando li bruciamo, CO2, l'idride carbonica, che va in nanosfera. Questo gas è un potente gas a effetto serra, cioè ha una proprietà fisica per cui intercetta una parte del calore che dovrebbe disperdersi dalla Terra dopo essere stato ricevuto dal Sole e mantiene la superficie terrestre più calda, proprio come se fosse una coperta chimica. Questa coperta, se la rendiamo più spessa, ovviamente rende più caldo chi ci sta sotto. E noi rendiamo più spessa questa coperta bruciando da 200 anni i combustibili fossili. Non c'è solo la CO2, ci sono anche il metano, gli ossidi di azoto, c'è un cocktail di gas a effetto serra, ma il più importante è la CO2, quindi quello che arriva da tutti i nostri usi di energia fossile. Anche andando in macchina, se mettiamo nel serbatoio del gasolio o della benzina, contribuiamo a emettere CO2. Un italiano emette 7000 kg di CO2 all'anno, 7 tonnellate, un americano quasi 20 tonnellate, un indiano 2, un africano forse pochi chili. Ecco che c'è una grande disparità tra gli emettitori e le nazioni emettitrici nel mondo che deriva dal livello di vita, da quanto noi consumiamo e addirittura anche da quanto noi sprechiamo. Allora si è identificato questo problema, l'aumento della temperatura causato dalle attività umane già più di un secolo fa. A cura di un premio Nobel per la chimica, Svante Arrhenius, uno svedese che nel 1896 è il primo a pubblicare un articolo sulle responsabilità umane dell'aumento di temperatura. Già altri l'avevano identificato prima, il fenomeno dell'effetto serra, ma come il fenomeno naturale. Arrhenius è il primo che dice noi bruciando il carbone aumentiamo lo spessore della coperta e quindi avremo un futuro più caldo. Cosa abbiamo fatto? Niente. In un secolo di allarme in cui la scienza sempre di più ha confermato questi dati fino ad arrivare nel 1988 alla costituzione dell'IPCC, cioè il Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite, quindi non si può dire ormai che non si sapesse che non c'erano informazioni a livello internazionale. Sono 30 anni che in sostanza i governi chiacchierano, sono consapevoli del rischio che corriamo e non fanno nulla, cioè non agiscono per la riduzione della causa che sono le emissioni di CO2. E quanto ai danni, eventi estremi perché accadono? Perché aumentando la temperatura c'è più energia nell'atmosfera e più evaporazione di acqua dagli oceani e quindi oltre alle siccità e all'ondate di calore abbiamo anche le alluvioni, abbiamo anche le tempeste, abbiamo anche le trombe d'aria, tutto quel corredo di fenomeni intensi che già conosciamo ma che più aumenta la temperatura e più aumenteranno di intensità e di frequenza. Lì il professore ha già individuato perfettamente bene quello il problema, nel senso che a parole il cambiamento climatico viene posto in modo centrale nella politica nazionale di molti stati anche in quella internazionale, anche nel panorama internazionale. Abbiamo visto come lei diceva parecchie conferenze sul clima, tentativi di accordi tra nazioni che spesso litigano tra loro circa le responsabilità di paesi ricchi e sviluppati e di paesi in via di sviluppo che reclamano ovviamente l'opportunità di crescere e di progredire. Come si può trovare un compromesso, professore, e chi dovrebbe cercarlo in un panorama così complicato e così difficile? Certo, abbiamo un problema di etica del clima perché ovviamente ci sono responsabilità anche storiche. I paesi come l'Inghilterra che ha iniziato la rivoluzione industriale o gli Stati Uniti o l'Europa hanno cominciato prima ad inquinare, quindi hanno una responsabilità più a lungo termine. Mentre i paesi più poveri, anche se adesso stanno inquinando molto, come la Cina, ma hanno cominciato da pochi decenni, quindi bisogna bilanciare anche le responsabilità storiche. Ebbene, cosa possiamo fare? Dobbiamo trasferire della equità anche nelle azioni per contenere il cambiamento climatico e questo è tutto previsto dagli accordi internazionali, infatti l'accordo di Parigi delle Nazioni Unite prevede che i paesi ricchi paghino un fondo di adattamento e di mitigazione del cambiamento climatico di 100 miliardi di dollari all'anno ai paesi più poveri, quindi è corretto, è già tenuto presente questo sbilanciamento. Il fatto è che come sempre poi non si trovano i soldi, per cui anche a Glasgow, alla 26esima conferenza delle Nazioni Unite sul clima, tutti questi soldi non sono ancora saltati fuori, ce ne sono solo una parte dei promessi e questo genera degli attriti tra i paesi poveri e quelli ricchi che ovviamente non vogliono, i paesi poveri non vogliono iniziare per primi a rinunciare al loro miglioramento delle condizioni di vita quando i paesi ricchi al contrario sono responsabili da 150 anni dell'inquinamento e chiedono di fare noi il primo passo e spesso noi non è che diamo poi tanto il buon esempio. Guardate c'è qualcosa che mi ha colpito molto nelle contraddizioni di queste prediche che noi paesi ricchi facciamo a quelli poveri, i voli fantasma che delle compagnie aeree sono costrette a fare in questi giorni perché la pandemia limita di molto la frequentazione degli aerei e i viaggi e questo è anche un bene, uno si sente dire bene così inquiniamo di meno perché ci sono meno aerei. No, gli aerei sono costretti a volare vuoti per mantenere i cosiddetti slot di affidamento commerciale delle varie rotte sugli aeroporti, quindi un problema meramente commerciale e burocratico. Allora che senso ha che noi facciamo la mostra? Cerchiamo di insegnare ai nostri ragazzi i rischi dei cambiamenti climatici, facciamo il predico su come risparmiare energia e poi abbiamo sopra le nostre teste aerei vuoti che volano bruciando cherosene buttando milioni di tonnellate di CO2 nell'aria. Ecco questo è il problema che abbiamo, una società che a parole si dichiara informata sui rischi del cambiamento climatico, ma ha fatti e completamente schiava della propria inerzia, della propria burocrazia. Ma insomma basterebbe veramente la firma su un foglio per cambiare queste cose e invece gli aerei, mentre noi stiamo parlando, continuano a volare vuoti. Eh professore, partendo da alcune strategie, lei le ha toccate adesso in per certi versi, no? Ed alcuni documenti messi a punto dalla comunità internazionale, per esempio l'agenda 20 e 30 con i suoi 17 obiettivi, quanto sono credibili e percorribili queste strategie relativi allo sviluppo sostenibile? O forse propone soluzioni ad obiettivi più concreti e più chiari, un altro piano messo a punto dall'Unione Europea che prende il nome di Green Deal, cosa ne pensa professore? Gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite sono assolutamente analoghi a quelli del Green Deal europeo, cioè sono un pacchetto di misure per ridurre il nostro impatto sull'ambiente in generale. Ricordiamo che non ci sono solo i cambiamenti climatici, abbiamo anche la drammatica perdita di biodiversità, l'inquinamento di plastica negli oceani, l'inquinamento che è nostra salute, cioè ci sono tanti i rischi ambientali che riassumiamo tutti insieme perché fortunatamente quello che contiene il cambiamento climatico in buona parte evita anche danni alla biodiversità e alla salute, però non tutto, bisogna fare delle scelte importanti per la sostenibilità ambientale in senso vasto. Si tratta però quasi sempre di belle dichiarazioni che sono sulla carta e per essere trasformate in realtà torno all'esempio degli aerei. È inutile che l'Unione Europea con una mano ci fa il Green Deal e spiega tutto quello che dovremmo fare con delle leggi nuove sul risparmio energetico nelle nostre case, in agricoltura, nei trasporti e poi avalla quelle regole che fanno volare gli aerei vuoti. bisogna decidersi, cioè la sostenibilità ambientale è fatta di numeri, è fatta di misure, tonnellate di CO2, kilowattora di energia prodotta con tecnologie rinnovabili, ettari di territorio cementificati oppure protetti, è fatta di queste cose, non si fa con le parole, quindi è inutile fare tanti Green Deal e tanti obiettivi di sostenibilità quando poi i fatti purtroppo continuano a emettere CO2, continuano a devastare i nostri territori, a cementificare il suolo, a tagliare le foreste. Meno parole è un po' più di fatti e allora cominceremo a misurare i progressi contro i danni ambientali con questi numeri. Professore, noi frettolosamente, appunto come lei ha sottolineato bene, vediamo solo alcune conseguenze del cambiamento climatico, quelle di maggiore impatto, altre sembrano chissà perché lontane nebulose da appunto quello che diceva le migrazioni climatiche, la distruzione degli ecosistemi, la mancata tutela della biodiversità, le epidemie, l'aumento del livello del mare, gli allevamenti intensivi che sono così deleteri, ma noi persone comuni che cosa possiamo fare per mitigare o ridurre questi danni che necessitano immediatamente di una soluzione. In sintesi, professore, le chiedo quali sono gli ambiti di intervento tempestivo per evitare un futuro catastrofico che tutti noi possiamo mettere in atto. In attesa che i grandi leader internazionali trovino accordi finalmente incisivi sulla salvaguardia del clima e dell'ambiente, ognuno di noi però può cominciare a fare qualcosa. Direi che il 50% del problema è nelle nostre mani, il 50% è nelle mani della politica internazionale, ma noi possiamo almeno per la metà contribuire a risolvere il problema su quattro settori principali. Uno è quello della casa e del modo in cui usiamo l'energia. Le nostre case sprecano un sacco di energia, in Europa circa il 35% nel pacchetto generale dell'energia che usiamo. La disperdono dagli spifferi, dalle finestre a vetri singoli, dai muri poco isolati. Quindi riqualificazione energetica delle case, attingendo anche ai vari eco bonus e energie rinnovabili. Riempiamo i nostri tetti di pannelli solari, ad eccezione dei monumenti storici che io dico lasciamoli pure tranquilli, non c'è bisogno di mettere i pannelli solari sui monumenti, ma sulle enormi periferie urbane che abbiamo, piazzali, supermercati, abbiamo una quantità di territorio costruito che può essere tutta ricoperta di pannelli fotovoltaici. Poi abbiamo l'eolico, poi abbiamo l'idroelettrico, insomma mettendo insieme tutte le energie rinnovabili dobbiamo arrivare nei prossimi decenni a sostituire carbone, petrolio e gas con le energie rinnovabili. E si può fare, ci sono ancora dei limiti tecnologici, bisogna dirlo, non è tutto pronto, ma se partiamo con questo processo anche l'innovazione tecnologica andrà dietro. Per esempio uno dei punti più importanti è trovare una soluzione allo stoccaggio delle energie rinnovabili che sono intermittenti. Il sole c'è di giorno e di notte come facciamo? Banalmente, dobbiamo trovare il modo di mettere da parte l'energia quando c'è per usarla quando ci serve e questo è un po' l'anello mancante per quanto riguarda le rinnovabili. Mentre è chiaro che col carbone e col gasolio uno si fa un bel deposito e poi usa e brucia quando vuole, di notte, di giorno, quando c'è il vento e quando non c'è. L'altro secondo importante settore è quello dei trasporti. Dobbiamo viaggiare di meno, il viaggio come lo concepiamo oggi in aereo, in macchina, in treno. È comunque sempre un viaggio impattante perché facciamo molti chilometri in poco tempo e quindi serve molta energia. Viaggiare a piedi o in bicicletta non ha emissioni sostanzialmente. Viaggiare con i mezzi pubblici ne ha meno ma certo non nulle. Anche un autobus, anche un treno consumano. Viaggiare in aereo è sicuramente il modo più impattante perché usa terosene e facciamo migliaia di chilometri in una giornata. Quindi cercare di ridurre i nostri spostamenti è il primo obiettivo. Il telelavoro, quello che stiamo usando noi adesso per fare questa registrazione, grazie alla pandemia, ha sicuramente fatto vedere che si può in tante occasioni spiaggio fisico con un incontro telematico. Questo fa risparmiare un'enormità di CO2. Pensate che un volo intercontinentale dall'Italia agli Stati Uniti, andata e ritorno, emette circa 2000 kg di CO2. Un'ora di sessione Skype, Zoom, poche centinaia di grammi di CO2. Allora è chiaro che anche la rete emette, ma se ciò che facciamo con la rete sostituisce azioni che inquinavano cento, mille volte di più, allora ben venga la rete, se usata bene. Quindi viaggiamo di meno, solo quando necessario. Io personalmente non prendo più l'aereo da quattro anni e sto benissimo. Mi riservo di usarlo solo per gravi motivi. La macchina elettrica può aiutare a sostituire l'auto a gasolio o a benzina, posto che sia caricata con l'energia rinnovabile. È ovvio che non dobbiamo caricarla con l'energia che arriva da una centrale a carbone, ma che arriva invece dai pannelli solari. E poi bisogna assolutamente essere certi che la legge obblighi al riciclo delle batterie per non creare un problema ecologico nel futuro. E siamo a due. Il terzo è la dieta, molto facile qui. Siccome gli allevamenti intensivi sono una fonte importante di gas effetto serra, si tratta semplicemente di mangiare meno carne. Un po' meno frequentemente, carne di buona qualità, da allevamenti più rustici, più in natura, ma magari una volta alla settimana invece che tutti i giorni. E con questo avremo già contribuito alla riduzione delle emissioni serra senza bisogno che lo decida Biden o Draghi. Il menù lo decidiamo noi. Non dobbiamo aspettare che lo decidano i leader politici per noi. E l'ultimo aspetto è quello dei consumi generali. Cioè tutti gli oggetti che noi consumiamo contengono energia, materie prime e generano rifiuti. Facciamo durare di più le cose che utilizziamo. Evitiamo l'usegetta. Dobbiamo avere un approccio più di riciclo, di riuso e non di corsa alle mode. Pensate nell'abbigliamento. È pazzesco, ma l'abbigliamento è una delle voci più importanti degli sprechi energetici e di rifiuti. Le mode ci obbligano a buttare via abiti che funzionano ancora benissimo. Potrebbero essere utilizzati per anni e anni e invece così dalla pubblicità noi veniamo spinti a comprarne sempre di nuovi. Resistiamo a queste sirene e avremo la soddisfazione anche in questo caso. Intanto avremo speso di meno e ci resteranno dei denari che potremo investire nel risanamento energetico della casa. E avremo evitato di contribuire all'ulteriore danno ambientale, per cui scarpe, abiti, telefonini, tutti quegli oggetti che normalmente si cambiano sulla spinta delle mode, quando funzionano ancora bene, la loro vita può essere prolungata addirittura di anni e anni. Professore, lei ha dato ovviamente dei suggerimenti chiarissimi e validissimi. Peraltro non si stanca mai di ripetere che il tempo che rimane a disposizione dell'umanità si riduce drasticamente giorno dopo giorno. Che cosa possiamo fare secondo lei per risvegliare le coscienze e coinvolgere la collettività e sensibilizzare i giovani ad assumere stili di vita più corretti? E mi domando anche quale ruolo dovrebbe avere la scuola in quest'opera di responsabilità e di acquisizione di consapevolezza. Detto in termini molto chiari, professore, che cosa si sentirebbe di dire ai nostri ragazzi ai quali noi parliamo tutti i giorni quasi di questi problemi. E però sembrano a volte sordi, no? Perché magari attorno c'è un invito a fare l'esatto contrario di quello che noi suggeriamo di fare. La scuola ormai direi che è da più di 30 anni che cerca di portare queste informazioni alla luce. Se vogliamo fare autocritica lo ha fatto troppo poco. È vero che nei programmi i temi ambientali sono sempre stati marginalizzati. Io faccio lezioni nelle scuole dagli anni 90, quindi posso dire che c'è sempre stato l'interesse a capire che cosa sono i cambiamenti climatici, i rischi ambientali. Forse però in modo troppo puntiforme, troppo limitato, si è poi privilegiato il percorso didattico classico in cui si seguono le materie in modo canonico, senza capire che sono tutte collegate e che il tema ambientale forse le lega tutte insieme. Questo è il passato, che siamo stati poco efficaci purtroppo lo vediamo, ma questa non è una colpa solo italiana. Direi che nel mondo sono pochissimi paesi che sono riusciti a costruire una cultura ambientale un pochino più elevata, non molti. Direi il Nord Europa, la Germania, ma non è che ci siano tanti altri paesi al mondo dove la scuola è riuscita a cambiare poi la società. Oggi lo dobbiamo fare ancora più convintamente, perché ci resta pochissimo tempo. La possibilità di intervenire ancora per ridurre i danni climatici e evitare lo scenario peggiore ai nostri ragazzi si misura in una decina d'anni. Una decina d'anni vuol dire che la nostra didattica nella scuola non può essere finalizzata a formare persone che poi agiranno nella loro vita professionale. È troppo in là. Un ragazzo a cui noi facciamo lezione oggi, che vedrà la mostra verso i ghiacciai, per esempio, prima che diventi presidente del Consiglio passeranno 50 anni, troppo tardi. Allora, oggi la nostra sensibilizzazione deve mirare a due obiettivi. Il primo è fornire ad ogni studente, studentessa, gli strumenti per capire la crisi climatica ambientale come protezione della propria vita, proprio individuo, perché il rischio climatico non è solo un argomento scientifico, è un problema di salvare la pelle. Quindi è come dare delle istruzioni di autosoccorso, come spiegare a una persona le istruzioni di pronto soccorso, così come dovremmo spiegare, come si fa la protezione civile in caso di alluvione, di eventi estremi. Tutte queste cose la scuola le deve dare perché dovrebbero far parte di ogni cittadino come cassetta degli attrezzi. Ma il secondo obiettivo è spingere i giovani a premere sulla politica e sulla società attuale perché risolva i problemi in questi dieci anni che ci rimangono. Quindi non possono farlo loro direttamente perché non sono ancora nelle posizioni di comando, ma possono farlo a partire dai loro genitori, dalle loro famiglie, fino alla società, ai media, ai giornali, alla politica. Questo possono farlo, anche se i tempi sono stretti. Quindi noi abbiamo molto da fare, abbiamo una grande responsabilità come formatori, ma i ragazzi hanno la loro come scintilla che deve far partire questa valanga di consapevolezza nella società. Bene, professore, io penso che lì sia stata chiarissima. La ringrazio per la sua disponibilità e per i suggerimenti che ci ha dato e le invito a vedere la nostra mostra, ovviamente, quando vuole e se vorrà sarà il benvenuto. Ne approfitto. Fate una bellissima cosa con questa mostra. Io quello che posso dire a tutti coloro che la guarderanno, che rimarranno sicuramente stupiti a vedere queste fotografie di cento anni fa e di oggi, dove il ghiacciaio non c'è più e faranno di fronte a queste immagini, oh, guarda, il ghiacciaio è scomparso. Ecco, il collegamento importante è che è scomparso per colpa tua. Non è andato via così perché c'è un processo cosmico che ha deciso. È scomparso per colpa tua, nostra. Ma la buona notizia è che possiamo ancora evitare evitare il danno peggiore. Quel ghiacciaio lì non lo rifaremo più in tempi umani, ci vorranno tempi geologici, ma almeno possiamo evitare di creare un pianeta inabitabile. Grazie, professore. È un messaggio di speranza che lei sta lanciando e che noi porteremo, insomma, ai nostri ragazzi. Peraltro come scuola professionale in Gin Veneto di Verona, in collaborazione con la scuola paritaria Progolo e con il liceo Guarino di San Bonifacio di Verona, vogliamo un po' fungere da portavoce, aprendo le nostre sedi alla mostra Dubai Glaciers, per diffondere informazione e consapevolezza su questo importante tema, che condividiamo con lei, professore, ovviamente. Ottimo. Grazie ancora. Partiamo dai ghiacciai per arrivare alle cose che studiate. Bravo, certo. Io ho visto elettricisti, idraulici, sono tutte professioni che hanno a che fare poi con il risparmio energetico e il passaggio alle energie rinnovabili. Quindi quel ghiacciaio, quella fotografia del ghiacciaio, com'era e com'è, cioè com'è non c'è più, è lo stimolo, la motivazione per i nostri studenti a diventare bravissimi nella loro professione per ridurre lo spreco energetico e per passare alle energie rinnovabili. Grazie, professore. Arrivederci. Buona mostra a tutti. Grazie, grazie. Grazie. Grazie.